Tragedia ieri sera nel Salernitano, dove a Capaccio Pestum una giovane di 17 anni ha ucciso a coltellate sua nonna. La giovane, dopo aver colpito a morte l'anziana, è uscita di casa lasciandosi la porta alle spalle aperta e si è seduta in strada con gli abiti ancora sporchi di sangue. Alcuni passanti e conoscenti l'hanno vista in stato confusionale e hanno chiamato i carabinieri. Sul posto gli uomini della vicina caserma hanno arrestato la minorenne che ha confessato l'omicidio di pochi minuti prima. La ragazza presentava una ferita al braccio da coltello ed è stata portata in ospedale. I vicini di casa della 76enne, allertati dalle urla della lite tra la giovane e sua nonna, avevano tentato di capire cosa stesse succedendo e, calmatasi la situazione, si erano spinti all'interno dell'appartamento adiocente. Lì, riversa sul pavimento, avevano trovato la loro anziana vicina senza vita e a quel punto avrebbero dato l'allarme alle forze dell'ordine successivamente intervenute sul posto. Secondo quanto si apprende da una primissima parziale ricostruzione ancora da confermare, la lite tra l'anziana e sua nipote sarebbe stata violenta fin dal principio. Non si conoscono ancora le ragioni dello scoppio dell'alterco, probabilmente legate a futili motivi, ma sta di fatto che a quanto si apprende sarebbe stata la 76enne ad aggredire per prima la nipote. A quel punto la giovane avrebbe perso il lume della ragione, afferrando il primo oggetto a portata di mano, in questo caso un coltello trovato in cucina e avrebbe risposto alla violenza con altra violenza.